Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca nera, operazione fiuto contro il crimine dei carabinieri che ha permesso di smantellare un'intera famiglia di origini nomadi, ma stanziale nella bassa padovana che in concorso con altre tre persone aveva costituito un gruppo criminale responsabile di decine di colpi con un guadagno stimato poco al di sotto dei 200 mila euro a loro carico, numerosi furti messi a segno tra le province di Padova, Venezia, Rovigo, Vicenza e Lucca. I quattro membri della famiglia sono finiti in carcere a Rovigo e a Verona. Al vertice del clan i coniugi Marco Bosiak e Luisa Braidicic, 51 e 56 anni, residenti a Borgo Veneto. Veri e propri leader del sodalizio criminale organizzavano i furti e gestivano il bottino. Sorpresi dopo il colpo in una casa di Bassano del Grappa, sono stati poi arrestati lo scorso ottobre con l'accusa di ricettazione di denaro e gioielli per un valore di 2.500 pezzi asportati da un'abitazione saccheggiata. Con loro sono finiti in cella anche i figli Anthony e Roberto Bosiak, di 26 e 23 anni, tutti rintracciati a Saletto, in tribunale a Rovigo. Inoltre si sono disposti l'obbligo di dimora anche per due fratelli, il 25enne J.D. e il 20enne J.R. di Corte Franca, finora incensurati e senza l'engami di parentela con la famiglia Bosiak, arrestati però nel Bresciano. Stesso provvedimento nei confronti di un 64enne di Ardesio nella Bergamasca che avrebbe fornito alla banda le auto per commettere almeno 18 furti. L'attività che abbiamo iniziato è perché abbiamo posto interesse ai reati di furti in abitazione che è un reato molto sentito dalla popolazione. I furti che venivano effettuati dai soggetti erano fatti da persone molto scaltre che utilizzavano mezzi intestati a prestanome e sceglievano in maniera oculata gli obiettivi. L'attività è partita da una prima ricognizione fatta a seguito di un furto dove siamo riusciti a risalire ad alcuni dei soggetti arrestati oggi. Da lì è partita la nostra attività di osservazione e pedinamento incessante fino ad arrivare poi all'attività che abbiamo dimostrato oggi. Loro operavano con un modus operandi molto attento. Innanzitutto sceglievano sempre le località lontane, non mai nei comuni dove abitavano o intorni. Preferivano le zone residenziali come case singole o come case anche alcune volte in appartamenti, prediligendo naturalmente quelli privi di sistemi di videosorveglianza, senza i cani e senza magari grate o qualcosa che poteva rendere difficoltoso entrare. Utilizzavano materiali da scasso quali cacciaviti, piedi di porco, breve frazione quindi a mezzo finestra o porta. Il loro furto durava 4-5 minuti, non di più, proprio perché erano agevolati molte volte purtroppo dal trovare l'area furtiva in posti molto semplici. Dopodiché si rimettevano in marcia verso la loro residenza e in alcuni casi strada facendo vendevano già la merce. L'obiettivo studiavano innanzitutto loro, molte volte facevano il sovraluogo anche il giorno prima, dove perdevano ore, dove studiavano sia il luogo sia il posto, naturalmente molto spesso erano isolati. La scelta era fatta anche in base alla presenza o meno delle auto e in alcuni casi per accertarsi dell'assenza del proprietario suonavano il campanello. E torniamo alla cronaca. I vigili del fuoco di questa mattina hanno operato lungo la provinciale 35 a Salzano per un auto articolato cisterna contenente soluzioni di lavaggio che si era rovesciato lungo un fianco ed è finito fuoristrada. Ha illeso il conducente. Le squadre dei pompieri accorse con tre automezzi hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto poi il travaso dei liquidi contenuti nella cisterna, in un altro camion, per poi proseguire con il recupero del mezzo. Una donna è morta in un incidente stradale nel quale la vettura su cui viaggiava è precipitata in una scarpata a Valdagno nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione, la conducente alla guida di un utilitario in un tornante ha perso il controllo dell'auto precipitando per una ventina di metri. I sanitari del suo M118 intervenuti con l'elicottero hanno recuperato la donna dichiarandone poi la morte. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Poco dopo le 13 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sopra il cavalcavia di via Fogazzaro a Bolzano Vicentino lungo la strada per quinto per lo scontro tra due auto che hanno causato un ferito. La squadra dei pompieri a corsa da Vicenza ha messo in sicurezza i veicoli e destratto un 36enne straniero rimasto incastrato nell'abitacolo di una Renault Megane. L'uomo è stato preso in cura dal personale del suo M118 e trasferito all'ospedale. Medicata sul posto la donna 72enne ha la guida invece di un Fiat Doblo. La polizia locale ha eseguito i rilevi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ribadire il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nell'individuare cure più mirate per quel 20% circa di pazienti che ancora non riesce a sopravvivere a forme aggressive e rare di tumore. Per questo obiettivo Fondazione Città della Speranza e l'Istituto di Ricerca Pediatrica hanno voluto celebrare proprio questa mattina la giornata internazionale contro il cancro infantile lasciando in cielo circa 300 palloncini gialli ecologici e biodegradabili. Protagonisti di questa importante azione di sensibilizzazione tenutasi proprio nel cortile della torre sono stati gli stessi ricercatori che per l'occasione si sono disposti in modo tale da formare il nastro simbolo della lotta contro le malattie gravi. Come da tradizione inoltre con il canale del sole la stessa torre sarà illuminata di giallo. Una sfuriata dopo il litigio con la direttrice dell'esercizio ha portato alla denuncia di un'anziana accusata di danneggiamento aggravato. Il parapiglia è successo ieri mattina all'interno dell'ufficio postale di Piazza Ruzzante a Pernumia. A scatenare una scenata in piena regola è stata una donna del posto di 71 anni che è arrivata alla posta per iterare della corrispondenza. Si è rivolta alla direttrice dando vita ad un diverbio per motivi banali pare legate ad una serie di lamentele per una firma. Dopo un acceso scambio di battute sulle prime la cliente si è allontanata dall'ufficio e la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Pochi minuti dopo invece l'anziana si è ripresentata indirizzando le sue ire sugli arredi. Ha scaventato a terra alcune barriere divisorie per poi passare ai computer dei quali ha cercato di scollegare i terminali POS per i pagamenti digitali. Sfogato l'impulso nervoso, come era arrivata se n'è andata senza dare spiegazioni attoniti i presenti nessuno dei quali fortunatamente è rimasto coinvolto. Una maestra di una scuola elementare dell'Alta Padovana è stata indagata per perquisizione arbitraria. L'insegnante avrebbe perquisito un alunno straniero ritenendolo responsabile di un furto in classe. I fatti risalgono ancora lo scorso gennaio quando da una classe quinta era sparita una piccola fustellatrice convinta che a rubarla fosse stato lo scolaro straniero di dieci anni. La donna lo ha portato fuori dall'aula e in corridoio lo ha perquisito mettendogli le mani nelle tasche del giubbetto, della felpa e anche dei pantaloni. Infine lo ha costretto ad aprire la cartella. Lo studente è stato lasciato andare quando è apparso chiaro che l'oggetto nascosto non era in suo possesso. Il ragazzino sconvolto ha poi detto tutto una volta tornato a casa ai genitori e di qui ovviamente è scattata la denuncia. Soldi addebitati sul vostro conto corrente. Molte segnalazioni per una nuova truffa da 19,90 euro che sta imperversando nelle ultime settimane attraverso un adebito con domicilazione bancaria apparentemente richiesta dal titolare del conto ma in realtà autorizzata con dati personali presi con metodi truffaldini. Lo ha comunicato in queste ore la polizia postale di Venezia. L'importo adebitato esiguo proprio perché così gli utenti potrebbero non notarlo e per evitare di incorrere in questo tipo di frode serve controllare frequentemente la lista movimenti del proprio conto corrente. Operazione adesso molto più agevole grazie anche all'on banking e in caso di anomalie avvisare immediatamente il proprio istituto di credito oppure addirittura chiamando la polizia postale. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l'ordinanza di confisca della Corte d'Appello Capitolina avente dall'oggetto il patrimonio immobiliare ed immobiliare riconducibile a Luigi Lusi per un montale di oltre 9 milioni di euro. Il provvedimento in parola conclude per quanto concerne l'aspetto patrimoniale la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto l'ex parlamentare e tesoriere del partito Democrazia e Libertà La Margherita condannato in via esecutiva per appropriazione in debita nel dicembre del 2017. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, grazie per averci seguito come sempre un augurio di un buon weekend. Grazie a tutti! Grazie a tutti!